Benvenuti in questo nuovo video dove faccio degli speed test nei soliti server con l'Arker D7 e una configurazione T-Scally Gaming Andiamo a provare il nostro server di sempre, quello di Colonia Monzese, lasciamo partire il test 6ms il ping, 14.50 circa il download in megabit, non ci resta che aspettare l'upload L'upload è circa 0.87 megabit, un ping di 6, quindi una linea davvero molto molto buona Andiamo a provare il secondo server di sempre, un server francese, lefibre.info, lanciamo e aspettiamo Eccolo qua l'upload, 0.89 megabit, quindi anche qua un ping davvero buono Mi pare che sia il 50% in meno di quello che si pingava con una linea in interleaved Questa ricordo che è una linea in configurazione fast Ora andiamo a vedere il terzo server di sempre, un server tedesco a Berlino Che avevo scelto l'altra volta, che si chiama Treudle Group Andiamo a vedere quindi il risultato di questo server Benissimo, quindi un ottimo risultato anche per quanto riguarda il server tedesco Adesso infine andiamo a vedere un server che io utilizzo sempre A Minsk, si chiama BluBuyFly, lanciamo il test ed attendiamo Ecco abbiamo concluso anche l'ultimo server con questa serie di speed test 78ms, 14.45, 0.87, davvero non male Ricordo che sto usando un Xbox 7490 in configurazione tutta completamente automatica Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un piace al video e condividetelo con più amici possibili Ciao da Alessandro TechWord